io disse pierre juvenet non conosco l'italia ho tentato di andarci un paio di volte ma sono stato fermato alla frontiera in tal modo che non ho più potuto proseguire eppure quei due tentativi mi hanno dato un'idea deliziosa delle usanze di quel paese devo ancora conoscerne le città i musei i capolavori che lo riempiono nella prima occasione cercherò nuovamente d'avventurarmi in quell'inaccessibile terra non capite cercherò di spiegarmi nel 1874 mi venne voglia di vedere venezia firenze roma e napoli verso il 15 giugno sentì quel bisogno quando le linfe rigogliose della primavera riempiano una smania di viaggi ed amore eppure io non sono il tipo del viaggiatore spostarmi mi sembra un'azione inutile e faticosa le notti in treno il sonno sussultante nei vagoni i dolori di capo le ossa rotte l'indolenzimento dei risvegli in quella scatola arrotolante la pelle grassa da polvere di carbone che ti si posa sulle ciglia sui capelli l'odore del carbone che ti riempie rendi pasti in mezzo agli spifferi dei buffet ecco secondo me un odioso principio per un viaggio di piacere dopo l'introduzione rappresentata dal rapido ecco la tristezza dell'albergo del grande albergo così affollato e così vuoto la camera sconosciuta angosciosa l'equivoco letto tengo al letto più che ad ogni altra cosa esso è il santuario della vita ogni notte gli affidiamo il nostro corpo in nudo e stanco perché lo ristori lo riposi tra il candore delle lenzuola e il calore delle piume in esso trascorriamo le ore più dolci della vita le ore dell'amore del sonno il letto è sacro e noi dobbiamo rispettarlo venerarlo amarlo come ciò che abbiamo di migliore e di più dolce sulla terra non posso toccare un lenzuolo d'albergo senza un brivido di disgusto che cosa è accaduto in quel letto la notte precedente quali persone sporche o ripugnanti hanno dormito su quelle materasse e mi viene da pensare a tutte le persone odiose che ogni giorno ci sfiorano gobbe ripugnanti pelli foruncolose mani sporche che ci fanno pensare ai piedi e al resto penso alla gente che quando la incontri ti manda sotto il naso zaffate disgustose d'aglio e di selvatico penso agli esseri deformi ai purulenti al sudore dei malati a tutte le sozzure e le sporcizie dell'uomo e tutta questa roba è passata nel letto in cui dormirò mi viene la nausea mentre mi ci infilo i pasti all'albergo quegli interminabili pasti in mezzo a gente noiosissima o grottesca oppure squallidi e solitari a un tavoletto davanti alla candela coperta da un paralume e le serate angosciose nella città sconosciuta c'è qualcosa di più straziante della notte che scende in una città straniera cammini in mezzo a un movimento a un'agitazione che paiono straordinari come quelli dei sogni guardi gente che non hai mai visto e che non rivedrai più ascolti parlare di cose che non ti interessano dette in una lingua che magari non capisci provi la tremenda sensazione di esserti sperso hai il cuore stretto le gambe deboli l'animo affranto vai avanti come se fuggissi cammini per non dover tornare in albergo dove ti troveresti anche più sperso perché sarebbe la tua casa quella casa a pagamento di tutti alla fine ti lasci andare sulla sedia di un caffè scintillante e quelle dorature e quelle luci ti opprimono ancor più delle ombre della strada davanti al bicchiere bavoso che ti ha portato il frettoloso cameriere senti così solo che ti par di impazzire e voglia di andartene in qualche altro posto in qualunque posto pur di non restare lì davanti a quel tavolino di marmo sotto quel lampadario sfolgorante e t'accorgi tutta un tratto di essere davvero sempre e dappertutto solo al mondo ma almeno nei luoghi che conosci e dove c'è gente che conosci provi l'illusione della fraternità umana in queste ore d'abbandono e di cupo isolamento nelle città lontane si pensa a lungo con chiarezza profondamente e allora vedi bene tutta la vita in un'occhiata sola libero dalla prospettiva delle continue speranze libero dall'inganno delle consuetudini e dall'attesa della felicità sempre sognata quando sei lontano puoi capire bene come tutto sia vicino corto vuoto cercando l'ignoto ti accorgi di come tutto sia mediocre ed effimero e girando il mondo t'accorgi di come esso sia piccolo e quasi sempre uguale dovunque le malinconiche passeggiate senza meta per strade sconosciute come le conosco bene mi fanno più paura di tutto mai e poi mai avrei fatto quel viaggio in italia da solo sicché convinci il mio amico paul pavigli ad accompagnarmi conoscete paul per lui il mondo e la vita sono la donna ci sono diverse persone di questa specie a cui la vita appare poetica illuminata dalla donna per costoro la terra è abitabile perché ci sono le donne il sole splende ed è caldo perché le illumina l'aria è buona da respirare perché sfiora la loro pelle e fa volteggiare i ricciolini delle loro tempie la luna è incantevole perché le fa sognare ed ha un languido fascino all'amore ogni azione di paul certamente ha per motivo le donne e tutti i suoi pensieri sono diretti a loro come pure i suoi sforzi le sue speranze un poeta ha condannato questa specie di uomini odio il vato evanesio lacrimoso che guarda il cielo sussurrando un nome e vede il mondo immenso come vuoto se non passeggia il fianco di ninì o brava gente che va fannate perché sia noto il povero universo ad appender gonnelle sulle siepi e cuffie bianche sui verdi pendii voi non capite l'armonia celeste della natura dalle mille voci voi che mai soli sulle snelle prode sognate donne al mormorio dei boschi quando parlai a paul dell'italia sulle prime si rifiutò assolutamente di lasciare parigi cominciai a raccontargli avventure di viaggio gli dissi che le italiane hanno una fama ad essere deliziose gli feci intravedere raffinati piaceri a napoli grazie alla raccomandazione che avevo di un certo signor michele amoroso molto utile ai viaggiatori per le sue numerose relazioni si lasciò tentare prendemmo in rapido un giovedì sera il 26 giugno di solito in questa stagione non si va nel mezzogiorno eravamo soli nello scompartimento tutti e due di malincuore seccati di lasciare parigi rammaricati di aver ceduto all'idea del viaggio rimpiangendo il fresco di marlì la senna tanto bella le sue sponde così dolci le deliziose giornate d'ozzo in barca le piacevoli serate di sonnolenza sulla riva in attesa della notte paul si rannicchiò nel suo cantuccio e appena il treno si fu mosso disse è proprio una stupidaggine andarcene laggiù ormai era troppo tardi perché potesse cambiare idea e allora io gli risposi non dovevi venirci non replicò ma pareva così furente che mi fece venire una gran voglia di ridere somiglia proprio a uno scogliattolo ognuno sotto i lineamenti umani a qualcosa ad un tipo d'animale come se fosse il marchio della razza primitiva quante persone hanno gole da bulldog teste caprine di coniglio di volpe di cavallo di bue paul è uno scogliattolo diventato uomo ha gli stessi occhietti vispi lo stesso pelame fulvo il naso a punta il corpo piccolo sottile agile mobilissimo e una misteriosa rassomiglianza in tutto l'insieme come dire una assomiglianza nei gesti nei movimenti nel portamento che parrebbe un ricordo alla fine cademmo tutti e due in preda a quel sonno frusciante del treno troncato da orrendi crampi alle braccia e al collo e dagli scossoni delle brusche fermate ci svegliamo mentre il treno seguiva il corso del rodano lo stridio continuo delle cicale entrava dal finestrino quello stridio che pare la voce della terra calda il canto della provenza e ci gettava sul volto nel petto nell'anima l'allegra sensazione del mezzogiorno il sapore della terra riarsa della patria pietrosa e luminosa del tozzo olivo dalle foglie color verde grigio a una fermata del treno un ferroviare percorse tutto il marciapiede gridando un sonoro valenza un vero valenza con la cadenza la cadenza vera un valenza che ci fece sentire di nuovo il sapore della provenza come già se l'aveva fatto godere la nota stridula delle cicale fino a marsiglia nulla di nuovo scendemmo al buffet della stazione per fare colazione quando tornammo nel nostro scompartimento ci trovammo dentro una donna paul mi lanciò un'occhiata giubilante si arricciò macchinalmente i baffetti si sollevò appena il cappello passandosi le dita aperte a guisa di pettine sui capelli scarmigliati dalla notte di viaggio e infine si sedette di fronte alla sconosciuta ogni volta che sia per la strada sia in società mi trovo davanti una faccia nuova provo un assillante bisogno di indovinare quale anima quale intelligenza e quale carattere si nascondano dietro a quei lineamenti era giovanissima e graziosa certamente meridionale aveva due magnifici occhi bellissimi capelli neri ondulati appena appena crespi e così folti vigorosi e lunghi che solo a vederla si aveva la sensazione del loro peso sul capo era vestita con eleganza con un certo cattivo gusto meridionale e pareva un po volgaruccia i lineamenti regolari del suo viso non avevano la grazia la raffinatezza delle razze eleganti la delicatezza leggera che i figli degli aristocratici ricevono nascendo e che rappresenta come il marchio ereditario d'un sangue meno grosso aveva certi brazzaletti troppo larghi per poter essere d'oro certi orecchini adorni di pietre trasparenti troppo grandi per essere diamanti e in tutta la sua figura sarà un non so che di popolano si capiva che doveva parlare con voce troppo alta gridare per qualunque pretesto gesticolando il treno si avviò lei se ne stava immobile al suo posto guardando fisso davanti a sé in un atteggiamento scontroso come se fosse su tutte le furie non ci aveva nemmeno guardati paul si mise a chiacchierare con me dicendo frasi d'effetto e sciorinando una conversazione studiata per attirare l'attenzione come i bottegai mettono in mostra le loro merci più pregiate per suscitare desideri pareva che non sentisse tolone dieci minuti di fermata buffet gridò il ferroviere paul mi fece cenno di scendere ed appena fummo sul marsapiede disse chi potrà essere mi mise a ridere chi lo sa e poi non me ne importa nulla era eccitato è un bel pezzo di figliuola fresca e gagliarda e che occhi però non sembra soddisfatta deve avere qualche fastidio non se neanche guardata attorno fai il bello per nulla mormorai lui s'adombrò non faccio il bello caro mio mi pare che quella donna sia molto carina e basta almeno potessi parlarle ma che potrei dire non hai nulla in mente chi potrebbe essere secondo te proprio non lo so direi un'attriccetta che torna alla compagnia dopo una fuga amorosa paul si indignò come se gli avessi detto qualcosa d'offensivo e disse come fai ad accorgertene io direi invece che ha un aspetto molto per bene risposi guarda quei braccialetti mio caro quegli orecchini e com'è vestita non mi stupirai che fosse una ballerina o forse una cavallerizza ma piuttosto una ballerina c'è qualcosa in lei che sa di teatro questa supposizione non gli andava giù è troppo giovane avrà malapena vent'anni ma vecchio mio si possono fare tante di quelle cose prima di avere vent'anni tra questi ci sono la danza e la recitazione per non dire delle altre che forse sono le sole che pratica i viaggiatori dell'espresso di inizia e ventimiglia in carrozza gridò il ferroviere dovemmo risalire la nostra compagna stava mangiando un'arancia no non aveva belle maniere si era stesa un fazzoletto sulle ginocchia e aveva un modo di staccare la buccia dorata di aprire la bocca per rafferrare gli spicchi disputare i semi fuori del finestrino che rivelava un'educazione volgare di abitudini e di gesti pareva più che mai ingrugnita e mangiava il frutto con un furore proprio divertente paul se la mangiava con gli occhi cercando in che modo potesse attirare la sua attenzione o eccitare la sua curiosità ricominciò a parlare con me tirando fuori una sfilata di idee distinte citando con familiarità dei nomi noti la ragazza pareva che non si accorgesse nemmeno dei suoi sforzi oltrepassammo fregius san rafael il treno correva attraverso quel giardino quel paradiso delle rose coi boschi d'aranzie e limoni in fiore che portano insieme le bianche zagare e i frutti dorati attraverso quel regno dei profumi patria dei fiori la meravigliosa riviera che si stende tra marsiglia e genova bisogna percorrerla di giugno questa costa sulla quale crescono liberi e selvaggi nelle strette vallicelle sui pendii delle colline i fiori più belli e continuamente si vedono rose campi distese siepi boschetti di rose s'arrampicano sui muri sbocciando sui tetti salgono sugli alberi esplodono in mezzo alle foglie bianche rosse gialle piccole o grandissime esili con un vestitino unito e semplice oppure carnose abbigliate pesantemente e splendidamente il loro respiro possente e continuo rende l'aria più densa saporosa e illanguidente quel profumo ancor più penetrante di quello dei fiori d'arancio raddolcisce l'aria ed è una festa per l'odorato la gran costa di rocce brune si distende bagnata dall'immobile mediterraneo il pesante sole estivo si riversa in pioggia infuocata sulle montagne sulle lunghe spiagge sul mare d'un color turchino intenso e come solido il treno corre sempre penetra nelle gallerie per attraversare i promontori striscia sulle ondulazioni delle colline passa sull'acqua su ripide scarpate ed un dolce vago odore salso di alghe secche si mischia a tratti al forte sconvolgente odore dei fiori paul non vedeva nulla né guardava né sentiva era completamente attratto dalla viaggiatrice a canne vuole ancora parlarmi e mi fece accenno di scendere appena fumo usciti mi prese per il braccio ma lo sai che è proprio meravigliosa guarda che occhi e che capelli ma non ho mai visto nulla di simile calmati gli dissi io oppure vai all'attacco non mi pare inespugnabile nonostante il suo aspetto scontroso ma non potresti parlarle tu mi chiese io non so che dirle al principio sono sempre di una timidezza idiota non sono mai stato capace di fermare una donna per la strada ma seguo le giro intorno mi avvicino ma non trovo mai le parole che ci vogliono una volta sola tentai una conversazione siccome si capiva nel modo più chiaro che il mio intervento era atteso e siccome dovevo assolutamente dire qualcosa balbettai come state signora quella mi fece una risata sulla faccia e io me ne scappai promisi a paul che avrei fatto del mio meglio per impostare una conversazione e quando fumo tornate ai nostri posti chiesi con garbo alla nostra vicina vi dà fastidio il fumo signora lei rispose non capisco era italiana mi venne voglia di ridere paul non sapeva una parola di quella lingua sicché dovetti fargli da interprete cominciai dunque la mia parte e disse in italiano volevo chiedervi signora se il fumo vi dà fastidio mi rispose arrabbiata che mi fa non aveva alzato il capo lo sguardo su di me restai perplesso non sapendo si considerare quel che mi fa un'autorizzazione un rifiuto un sincero segno di indifferenza o semplicemente lasciatemi in pace ripetei signora vi dà noia l'odore del tabacco mi rispose mica con un tono che voleva dire ma levatevi di torno il permesso però l'aveva dato e disse a paul puoi fumare lui mi guardava con gli occhi stupiti di chi cerca di capire quel che vi han detto davanti a lui in una lingua straniera e mi chiese con una faccia davvero buffa che cosa le hai detto le ho chiesto se potevamo fumare non sa il francese neanche una parola e chi ha risposto che potevamo fare quel che ci pareva e accesi un sigaro paul aggiunse non t'ha detto altro caro mio se tu avessi contato le parole che ha detto ti saresti potuto accorgere che ne ha dette sei e di queste sei due per farmi capire che non sapeva il francese con le altre quattro che rimanevano non poteva dirmi granché paul pareva infelice deluso disorientato invece a un certo punto l'italiana mi chiese con lo stesso tono scontento che pareva connaturato in lei sapete dirmi a che ora arriveremo a genova stasera alle 11 signora risposi e dopo un momento di silenzio continuai andiamo anche noi a genova e se strada facendo potessimo esservi utili in qualcosa ne saremmo ben lieti non mi rispose e allora insistetti siete sola e se aveste bisogno siamo ai vostri ordini disse un mica così robusto che subito d'acqui paul mi chiese che t'ha detto ha detto che le piaci molto ma lui non aveva voglia di scherzare mi pregò piuttosto seccamente di non pigliarlo in giro allora gli tradussi sia la richiesta della ragazza sia la mia galante offerta così decisamente respinta paul era inquieto come uno scoiattolo in gabbia disse se riuscissimo a sapere in che albergo va ci potremmo andare anche noi cerca di saperlo prova a trovare un altro pretesto per parlarle era più facile a dire che a fare non sapevo che cosa inventare ma ero incuriosito anch'io di far conoscenza con quella donnina scontrosa passammo a nizza monaco mentone e il treno si fermò alla frontiera per la visita dei bagagli non posso patire quella gente maleducata che mangia in treno eppure andai a comprare un mucchio di roba per giocare l'ultima carta puntando sulla ghiottoneria della nostra vicina sentivo che di solito quella ragazza doveva essere facile da avvicinare ora doveva essere arrabbiata per qualcosa ma forse sarebbe bastato un non nulla un desiderio suscitato una parola una cortesia appropriata per rasserenarla convincerla e conquistarla il treno ripartì eravamo sempre noi tre soli sparpagliati i miei acquisti sul sedile tagliai il pollo sistemai elegantemente il prosciutto su un foglio e disposi con cura accanto alla giovane la frutta e i dolci fragole susine ciliegie pasticcini e confetti nel vedere che stavamo cominciando a mangiare dai tiro fuori da una borsa un pezzo di cioccolata e due cornetti e cominciò a sgranocchiare coi suoi bei dentini aguzzi il pane croccante e la cioccolata paul mi disse sottovoce offrile qualcosa è proprio quello che voglio fare mio caro ma non so da che parte cominciare la giovane diede qualche occhiata alle nostre provviste e mi accorsi che finiti i cornetti avrebbe avuto ancora fame lasciai che finisse il suo frugale pasto e le chiesi vi sarei grato signora se voleste accettare uno di questi frutti rispose nuovamente mica ma con voce meno cattiva di prima e allora insistetti ma posso offrirvi un po di vino non avete bevuto nulla è vino della vostra terra vino italiano e poiché siamo in casa vostra ci farebbe molto piacere se una bella bocca italiana accettasse l'offerta dei suoi vicini francesi faceva segno di no col capo ad agio con la volontà di rifiutare e il desiderio di accettare disse di nuovo mica ma con tono quasi gentile presi il fiaschetto riempì un bicchiere e glielo offri bevete le dissi sarà il benvenuto per noi nella vostra patria prese il bicchiere con aria scontenta lo vuotò ad un fiato come se avesse molta sete e me lo rese senza ringraziarmi allora le offri le ciliegie prendete signora ci fareste veramente piacere guardava la frutta sparpagliata accanto a lei e disse parlando così svelta che feci fatica a capirla a me non piacciono né le ciliegie né le susine amo soltanto le fragole che cosa ha detto mi chiese paul ha detto che non le piacciono né le ciliegie né le susine ma soltanto le fragole ne posai sulle ginocchia il giornale pieno di fragole di bosco cominciò subito a mangiarle con grande sveltezza pigliandole con la punta delle dita e tirandosela in bocca da una certa distanza apriva la bocca per riceverle in modo civettuolo e seducente quando ebbe finito il mucchietto rosso che vedemmo in pochi istanti diminuire dissolversi sparire nel vivo agitarsi delle sue mani le chiesi e ora che posso offrirvi vorrei un pezzetto di pollo rispose e se ne mangiò almeno mezzo anzi lo divorò a grandi morsi sbranandolo come un carnivoro poi si decise a prendere un po di ciliese che non le piacevano qualche prugna alcuni pasticcini e alla fine disse basta e se ne annicchiò nel suo angoletto cominciavo a divertirmi sul serio e volevo che mangiasse qualcos'altro moltiplicando complimenti ed offerte per convincerla ma lei si abbiò di nuovo e mi buttò sulla faccia un mica e lo ripete in modo così terribile che non mi arrischiai più a disturbarle la digestione rivolsi verso il mio amico mio caro paul credo che siamo tornati al punto di prima si faceva buio una colda notte estiva scendeva lentamente stendendo le sue tiepide ombre sulla terra ardente e stanca ogni tanto lontano sul mare si vedevano delle luci sulle punte delle insenature sui promontori mentre le stelle cominciavano ad apparire sull'orizzonte buio e a volte le confondevo coi fari un profumo degli aranci si faceva più penetrante lo respiravamo inebriati allargando i polmoni per assorbirlo di più pareva che nell'aria profumata volteggiasse qualcosa di dolce di delizioso di divino un tratto vidi sotto gli alberi che costeggiavano la ferrovia nell'ombra ormai densa come una pioggia di stelle parevano gocce di luce che saltellassero giocassero e corressero tra le foglie minuscole stelle cadute dal cielo sulla terra per giocare erano le lucciole le mosche di fuoco che nell'aria profumata danzavano uno strano balletto una di esse entrò per caso nello scompartimento e cominciò a svolazzare gettando i suoi bagliori intermittenti segnati da pause di buio coprì la lampada col velo turchino e osservai il volo di quell'insetto fantastico che andava veniva seguendo il capriccio del suo volo fiammante si posò ad un tratto tra i capelli neri della nostra vicina e si era addormentata dopo la cena paul era in estasi con gli occhi fissi su quel punto luminoso e scintillava come un vivente gioiello sulla fronte della ragazza addormentata l'italiana si svegliò verso le dieci e tre quarti e aveva sempre in mezzo ai capelli una lucente bestiolina vedendo che si muoveva le dissi stiamo per arrivare a genova signora lei non mi rispose e disse tra sé come assillata da un pensiero fisso e tormentoso e ora che faccio poi mi disse volete che venga con voi rimasi così stupito che non capivo come con noi che volete dire e la ripete infuriandosi di più volete che venga con voi subito sì che voglio ma voi dove volete andare dove volete che vi porti alzò le spalle con suprema indifferenza dove vi pare per me è lo stesso ripete due volte che mi fa ma noi veramente andiamo all'albergo e la giovane disse con tono sprezzante e va bene andiamo all'albergo mi voltai verso paul e gli dissi ma ha chiesto se la vogliamo portare con noi nel vedere lo sbalordimento del mio amico tornai calmo paul balbettò con noi e dove perché come che ne so in questo momento me l'ha proposto con tono irritatissimo gli ho risposto che andiamo all'albergo e lei ha detto va bene andiamo all'albergo deve essere senza un soldo eppure è lo stesso uno strano modo di far conoscenza paul nervoso e fremente esclamò ma sì sì che voglio dille che la porteremo dove vorrà esitò un istante ed aggiunse con voce inquieta però bisogna sapere con chi vuole andare con me o con mi voltai verso l'italiana che pareva non ascoltarci nemmeno ricaduta nell'indifferenza più completa e le dissi saremo felicissimi di portarvi con noi signora però il mio amico vorrebbe sapere se voi scegliete per appoggiarvi il suo braccio oppure il mio spalancò gli occhioni neri e mi rispose un poco stupita che mi fa grazie 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 grazie